Ci vuole fegato e ci vuole fegato per fare molte cose, ci vuole fegato anche per abbassare lo sguardo, aprire un libro e leggere a proposito di questo protagonista del nostro corpo umano. Ma più che voler fegato a leggere questo libro ci vuole curiosità. Perché è una curiosità importante, perché questo libro che stiamo per raccontare insieme con il suo autore è un libro che racconta nella semplicità e nella profondità, senza usare ovviamente argomenti tecnici perché è comunque per tutti quanti, ci fa conoscere meglio questo protagonista che troviamo dentro di noi, l'organo chiave per il benessere dell'intero organismo, niente meno. Antonio Moschetta, buonasera. Sì, buonasera, buonasera a voi. E benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare di questo suo nuovo libro. Ricordo ai nostri ascoltatori che Antonio Moschetta è medico, professore ordinario di medicina interna all'Università Aldo Moro di Bari e dottore di ricerca in epatologia all'Università di Utrecht. È stato tra l'altro allievo del premio Nobel al Gilman presso lo Howard Hughes Medical Institute di Dallas ed è titolare del progetto di ricerca sulla ricerca sul cancro, sul metabolismo dei tumori e la regolazione genica. Autore di numerose pubblicazioni ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il Richard Weissman Award a Chicago e Rising Star in epatologia a Vienna, il David Williams Award a Veiling Colorado e l'European Lipid Award a Göteborg. Devo dire che il suo palmarès è molto ricco, Antonio Moschetta, ma è un palmarès che è stato costruito sullo studio e sul lavoro di ogni giorno in sala chirurgica. Ecco, come mai ha pensato di dedicare questo saggio che si sviluppa per circa 140 pagine a questo signor fegato che abbiamo dentro? Guardi, questa è una bella domanda. Io ho iniziato, ho lavorato diversi mesi, devo dirle, in questa creazione perché io sono molto critico con me stesso e ho deciso di puntare a raccontare la storia di questo organo che poi è un organo che è stato con me durante tutta la mia formazione perché un po' noi siamo dei passionali e io mi occupo proprio di fegato come metabolismo, come regolazione di tutti quegli eventi che questo organo governa. Per cui, se vogliamo, ho semplicemente seguito il mio cuore e associato all'esperienza di tutti questi anni. Ma lei, mi scusi Antonio Moschetta, ma lei come da studente poi nella professione, come si è avvicinato allo studio del fegato? Che cosa l'ha affascinato di questa parte del corpo? Le devo dire che in realtà mi sono ritrovato da subito a studiare il fegato. La mia attesa di laurea in medicina è stata proprio sul fegato e sulle vie biliari e subito dopo io sono stato a Dutrecht in Olanda per tre anni a lavorare interamente su come questo organo interagiva nei momenti del digiuno, nei momenti post-prandiali, con tutti i nutrimenti, come li impacchettava, come li mandava in giro. Sa, mi faccio dire questa cosa interessante. Questi erano gli anni precedenti al sequenziamento del DNA, che è arrivato nel 2003 nella sua forma completa con il genoma umano. Bene, quando si è completamente sequenziato il DNA io ho continuato a restare sul campo epatico, questa volta studiando come questi nutrienti e questi ormoni potessero interagire con il DNA e accendere e spegnere i nostri geni. Io penso davvero che il fegato sia il pater familias del nostro corpo. Lui è già maturo appena noi nasciamo. Noi siamo bambini, siamo neonati e lui è già grande, è già maturo, è già differenziato, è già pronto a fare da padre perché una delle sue principali attività è quella proprio di stemperare i nostri errori nutrizionali, le tossicità, i composti chimici, l'alcol. E qui è un organo veramente interessante. È un organo che ne deve sopportare parecchie ed è un organo che fa di tutto per perdonare i nostri eccessi, a meno di quello che io ho compreso tra le altre cose leggendo questo libro. Il fegato fa di tutto per perdonare i nostri problemi, i nostri vizi, l'alcol, l'ha già citato lei e così via. Però lei comincia, Antonio Moschetta, questo suo libro intitolato Ci vuole fegato narrando di un mito che un fanciullo divino di nome Tagess, emerso improvvisamente dalla terra arata da un contadino etrusco, Tar Conte, diffuse in Etruria l'arte della divinazione e dell'interpretazione del volere degli dei. Gli etruschi avrebbero imparato così la pratica della ruspicina, il rito basato sull'estrazione delle viscere delle vittime animali, specialmente montoni, e sull'osservazione del loro colore e della loro conformazione per decifrare le indicazioni degli dei riguardo al futuro. Ora, lei parte da molto lontano, parte da queste considerazioni che contengono già in sé e per sé qualche cosa di medicina nonostante tutto, nonostante quello che possiamo pensare. Sì, è così. Mi sono divertito a rivedere la letteratura e la storia, che è molto ricca di aneddoti e di risorse su questo organo. Uno è questo degli aruspici, perché poi gli aruspici avevano un modello bronzio del fegato e controllavano cicatrici e anomalie e decifravano il volere degli dei. Una cosa che poi i romani in qualche modo hanno continuato questa tipologia di pratica e la utilizzavano prima di intraprendere delle imprese militari, proprio quasi per prevenire la riuscita di una vittoria. Ora, perché io cito questa letteratura? Perché in realtà il fegato è proprio un organo che riesce a dirci, in anticipo, se saremo in una condizione equilibrio o meno dal punto di vista metabolico. Penso un po', se una donna ha il fegato ingrassato, cioè ha fegato grasso, in età fertile, perde quella protezione classica ormonale che la donna ha rispetto all'uomo dal punto di vista cardiovascolare. Perché le dico questo? Perché in fondo gli aruspici dicevano proprio questo. Io faccio un'ecografia, trovo un fegato grasso in questa donna e che cosa dico? Dico attenzione signora, lei probabilmente è in uno stato di disequilibrio nel rapporto con l'energia del cibo, piuttosto che con l'energia dell'esercizio fisico e questo disequilibrio si traduce nel deposito di grasso nel fegato che è il primo modo per dirci non che c'è una malattia, ma che questo disequilibrio riuscirà a prevenire la perdita della protezione cardiovascolare classica della donna fertile. Non so se l'ho confusa, ma è bellissimo utilizzare questo fegato che è un organo che sta lì a metabolizzare tutto, addirittura anche come un segnale di disequilibrio metabolico. È quello che dicevano gli aruspici. E poi mi permette, le rubo un altro minuto. Prego. Il titolo Ci vuole fegato viene proprio dall'idea del coraggio. Avere fegato significa avere coraggio. E perché questo ha riempito pagine di poesie e di letteratura? Evidentemente io l'ho pensata così perché parte dal famoso mito del titano Prometeo che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini. In questo mito si dite che Zeus, molto inquietato da quest'azione di Prometeo, lo condanna ad essere legato su una roccia, su una montagna e ordina ad un'aquila gigante durante il giorno di mangiare il segnato di Prometeo per l'eternità. Il mito racconta che di notte il segnato si rigenerava così che ogni mattina questa aquila potesse trovare nuovo fegato. E quindi avere coraggio significa avere fegato sfruttando già nel mito quest'altra grande capacità del fegato che in questo caso è quella di rigenerarsi. E guardi, la storia della rigenerazione del fegato, della sua crescita, che io descrivo in un capitolo, anzi in due capitoli di questo libro, è bellissima perché la scienza non ha ancora dato tutte le risposte. Le ne dico una, un vivente, un genitore che dà un pezzo del suo fegato ad un bambino purtroppo nato con una malattia rara epatica. Bene, cosa succede? Che quel pezzettino nel recipiente o ricevente bambino cresce perché si rigenera fino ad un messaggio di stop. E non il papà, togliere quel pezzettino fa sì che il fegato rigenera fino ad un messaggio di stop. Noi ancora ad oggi non sappiamo bene quale madre natura dà come messaggio di stop per racchiudere in quel volume, in quella grandezza il fegato. Vedi come un mito noto sin dall'antichità diventa realtà e ci lascia ancora così in attesa di risposte scientifiche. Il fegato è un organo eccezionale. E mi scusi se mi vede passionale, ma questi sei mesi che mi hanno portato a scrivere questo libro nonostante io pensavo di essere arrivato in profondità in realtà mi hanno fatto capire che io ero fin troppo riduzionista. Avevo studiato il gene, la mutazione, la piccola funzione ma non avevo guardato il tutto. Bene, riavvolgere il naso o meglio diminuire la magnificazione al microscopio e guardare il tutto mi ha reso quest'ordano ancora più interessante. Riprendo l'immagine del riavvolgere il nastro, Antonio Moschetta. Qui noi ci chiamiamo il posto delle parole e nelle parole amiamo inciampare perché solo quando ti inciampi ti accorgi. Vogliamo sostare per così dire sulla parola fegato. Ecco, lei la racconta anche l'origine di questa parola che non è semplicemente un termine di cucina per certi aspetti, ficatum per esempio. Sì, insomma, con molta probabilità l'origine della parola fegato è un'origine particolare. Deriva dal latino yecur ficatum, ossia il fegato con i fichi. E questo perché in realtà è un curioso richiamo gastronomico perché gli antichi greci prima, i romani poi, usavano ingrassare alcuni animali nutriendoli con cospicue quantità di fichi e anche perché erano soliti preparare ricette a base di fegato e fichi. Con il tempo poi la prima parola, la parola yecur, è scomparsa mentre è rimasta la parola ficatum a indicare quello che oggi noi appunto chiamiamo fegato. Quindi molto interessante l'origine, se vogliamo così, gastronomico, culinario della parola fegato che poi è arrivata sino ad oggi così intatta a rappresentare un organo che forse poi è la cucina del nostro corpo perché anche lì arrivano tutti i nutrienti che se vogliamo sono gli ingredienti e lui li reimpacchetta a formare colesterolo, proteine, glucosio, acidi grassi e a distribuirli a tutti gli altri, ecco probabilmente la cucina centrale del nostro organismo. È una centrale metabolica come lei l'ha definita Antonio Moschetta il fegato ma adesso andiamo a comprendere meglio quanto noi questo fegato così altruista perché è veramente un organo altruista, come possiamo capire leggendo questo libro ricordiamo i nostri ascoltatori, libro intitolato Ci vuole fegato Andiamo a vedere come noi lo maltrattiamo e come lui ci sopporta e come lui ci aiuta Ecco, in che modo noi soprattutto lo maltrattiamo il fegato, Antonio Moschetta? Sì, guardi, allora l'altruismo del fegato si manifesta sia nelle condizioni post-prandiali perché si immagini, è come se lui riceve tutti i nutrienti e poi decide di regalarli ai vari organi a seconda delle necessità, quindi è un altruismo se vogliamo post-prandiale ma l'altruismo del fegato si manifesta anche in condizioni di carenze di energia tipo durante il digiuno, tra un pasto e l'altro, al digiuno notturno perché il fegato è anche in grado ex novo di produrre l'energia da distribuire quindi un altruista vero, un altruista che distribuisce quando lui è pieno di risorse ma è un altruista pronto a donare agli altri anche nelle condizioni di chiusura, di carenza Ora, come lo maltrattiamo? Guardi, allora, la prima idea che ci viene è quella delle tossicità pensiamo ai composti chimici che sono presenti in quasi tutti i nostri alimenti oppure pensiamo alla tossicità, quella da noi decimia per esempio l'utilizzo di quantità elevate di alcol oppure l'utilizzo errato di farmaci quando invece non c'è bisogno ecco, il fegato ci ricorda di fare enorme attenzione al fai da te perché il fai da te, anche delle diete, anche delle integrazioni quando non si conosce profondamente la chimica può diventare pericoloso ma il fegato in realtà ci dice che quello che avviene in me è diverso da quello che avviene in lei quindi oggi la scelta ci spiega le suscettibilità che ci portano alla individualizzazione del problema vi faccio subito due esempi che io cito qui e lì nel libro e nei vari capitoli un esempio è la quantità massima di dose di farmaco da assumere se leggiamo un bugiardino il farmaco X lo può assumere massimo tre volte al giorno con una distanza di sei ore da una pillola all'altra benissimo, questo resta validissimo ma se io ho un fegato con una suscettibilità ad una malattia genetica cioè ho ereditato qualcosa dai genitori oppure se io ho un fegato ingrassato quindi un fegato che sta già lottando contro una infiammazione d'accumulo di grasso o un fegato con una malattia chiaramente la dose da assumere è totalmente diversa e il secondo esempio il secondo esempio è spesso il fegato nel decidere la costruzione di quelli che sono i percorsi nutrizionali decide di trasformare zucchero in grasso per difenderci dal diabete mellito e quindi una dieta troppo spinta in carboidrati in un soggetto che non ha una richiesta energetica adeguata di carboidrati può portare a far lavorare il fegato per creare la lipogenesi cioè la sintesi dei grassi e poi depositarli nel fegato stesso o nel girovita nella pancia quindi quando parliamo di fegato grasso, parliamo di girovita, parliamo di tessuto adiposo all'interno della cavità addominale quindi proprio di circonferenza vita dobbiamo ricordarci che non sempre è da grasso che assegniamo con l'alimentazione ma può essere da farine, zuccheri, assunti in quantità maggiori che il fegato per non farci avere la iperglicemia o il diabete ha deciso di trasformare in grasso e di depositare come vede lui non è solamente un distributore, un contatore di energia lui è un vero e proprio attore Antonio Meschetta, le faccio una domanda se è una domanda banale abbia la compiacenza di dirmelo, la prego ma io guardando in faccia, guardandomi allo specchio per esempio come posso capire che ho il fegato malato o il fegato grasso? c'è una possibilità o devo fare un'analisi più dettagliata? Guardi, questa è veramente una bella domanda lei mi ha chiesto un commento e glielo do il fegato, se escrivessimo le vie biliari la colicistica, sono delle strade che possono evocare dolore come io cito quando spiego i calcoli della colicistica i calcoli del coleno quindi in realtà le malattie del fegato non danno di solito dei sintomi non danno dolore il fegato non è un organo che evoca dolore quindi che cosa le voglio dire? la sua domanda è interessante perché il fegato è in realtà una cartina di tornasole del nostro stato di salute cioè è lui che ci dice se siamo in regola o no quindi io guardandomi allo specchio tranne che nei casi gravi quando divento giallo quando ho problemi alle vie biliari con la bilirubina nei casi che a noi interessa diagnosticare perché noi vogliamo arrivare prima probabilmente non abbiamo nessun sintomo se non un po' di astenia quindi cosa bisogna fare? bisogna proprio chiedere al legislatore di introdurre negli screening la ecografia del fegato e la misurazione delle transaminasi perché questo? perché le ripeto avere il fegato grasso significa essere in una condizione di disequilibrio e poi mi permetto di rubarle un attimo la scienza non ha ancora dato una risposta fondamentale una percentuale di cospicua di soggetti che hanno il fegato grasso ad un certo punto hanno la epatite da grasso cioè questo grasso induce in loro un'infiammazione esattamente come quella dei virus esattamente come quella dell'alcol e questa epatite da grasso è la malattia del presente è la causa del numero più alto dei trapianti di fegato oggi e non solo è una condizione predisponente al tumore del fegato e allora perché studiarlo? perché chiedere al legislatore di vedere sempre di più la possibilità di studiare con un'ecografia il fegato? perché si può tornare indietro? quello che io tento di dire in questo libro nel ci vuole fegato è proprio che utilizziamo la storia del fegato per capire che quando conosciamo il nostro rischio di malattia noi non abbiamo la certezza della malattia al contrario abbiamo speranza di guarigione il fegato grasso anche l'epatite da grasso o da alcol può fermarsi e può tornare indietro quindi c'è sempre un momento in cui è necessario lo studio del fegato per indicare poi la strada sul come fare a ridurre il nostro rischio di malattie tra l'altro anche di malattie tumorali e questo è molto importante perché quando ci sono le malattie tumorali tutto ha un altro registro ai noi anche e soprattutto dal punto di vista medico e non solo umano Antonio Moschetta siamo in tempo di pandemia e parlare di fegato sembra di parlare di altre cose ma io le vorrei chiedere questo c'è posto ancora per chi ha problemi di fegato negli ospedali oggi? Sì, io la affronterei in due modi questa domanda la prima è ricordiamoci che tutte le cellule della risposta immunitaria della risposta infiammatoria tutti i composti che guidano le membrane cellulare il colesterolo gli acidi grassi sono per lo più sintetizzate e modulate dal fegato quindi avere un fegato sano è garanzia di risposta anche alle infiammazioni agli insulti virali non solo quelli che attaccano lo stesso fegato come le epatite B e le epatite C ma forse anche gli insulti virali sistemici per cui è molto importante non essere sovraccarichi di grasso o di tossicità epatica per poter rispondere meglio agli insulti come dire con un fegato sano mi ammalo di meno e se dovessi incontrare la malattia la pandemia probabilmente riuscirò a rispondere meglio ai farmaci grazie alle terapie antivirali antibiotiche e cortisoniche che si utilizzano anche durante la pandemia per lottare sulla seconda parte ecco è importantissimo che i pazienti abbiano il loro spazio sia nel territorio per continuare a fare gli screening in questo caso la ecografia del fegato per monitorare l'eventuale nascita di un epatocarcinoma di un tumore del fegato su un fegato a rischio oppure la colonoscopia piuttosto che la mammografia nella prevenzione ma è anche importante mi credo che sia lasciato in ospedale a tutti quei pazienti che non hanno il covid la possibilità di continuare ad avere tutte le cure io credo che con un sistema di monitoraggio un attimino più capillare dei contagiati e con la possibilità di mutuare proprio l'assistenza domiciliare per quei soggetti paucisintomatici di covid si potrà lasciare lo spazio negli ospedali con i percorsi non covid perché è nostro dovere assicurare non solo la prevenzione con gli screening ma anche la terapia e la cura a tutti quei pazienti oncologici e cardiovascolari nell'ambito della qualità dell'assistenza e dei percorsi di sicurezza ci vuole fegato è il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Antonio Moschetta pubblicato da Mondadori l'organo chiave per il benessere dell'intero organismo prima di salutarci però Antonio Moschetta qual è qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? ma guardi le devo dire la verità ho appena terminato l'isola di Arturo e prima dell'isola di Arturo ho letto La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci Arizzoli 2001 eh due grandi due grandi libri da una parte Oriana Fallaci da due grandi donne dall'altra Elsa Morante quindi sono delle riletture due due bei libri che consiglio a tanti su cui con delle autrici su cui magari non si può essere d'accordo sulle ragioni della loro della loro storia raccontata ma si può certamente concordare con una serie di passaggi due libri molto diversi rispetto ai saggi ma sa quando si scrivono i saggi e si studia poi dopo si ha bisogno comunque di sognare la scienza è creatività è sogno e a me piace sognare con un bel libro sul comodino ogni sera grazie 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 davvero Antonio Moschetta grazie a voi per il vostro spazio buonasera grazie a voi grazie a voi